bella ragazzi siamo i cranas e siamo tornati qui con un nuovo video e come vedete io non ho voce perchè stiamo registrando questo video appena tornati dal videogame show è stato molto bello però è stato anche molto faticoso perchè i microfoni non funzionavano ogni tanto e toccava urla spero vi siete divertiti dal videogame show e siamo qui per fare questo video e oggi siamo con indovina la serie tv se lui si degna di parlare forse cominciamo si indovina la serie tv l'avevamo detto l'altra volta che l'avremmo fatto esatto l'abbiamo fatto lo stiamo facendo in questo momento probabilmente sono seri che conoscete tutti spero credo di sì io ho messo i più famose lui pure più famose quindi io vadovi a pescare la prima siamo pronti vai bella tazza d'aroma dunque e c'è pesco la prima e che capiterà che capiterà capita questa qua questa e praticamente fa ovviamente non avremo secondi perchè una serie tv è molto lunga da spiegare quindi uno dove cercate farla capire no perchè io non so mai come farla questa ok giovanna d'arco hanno bruciato un piccato non mi ricordo non mi disturbare mentre cucino le ricette di benedetta parodi sicuramente non ho capito comunque io so il meglio a fare questa cosa perchè io cucino allora si scusa poi praticamente succede che master chef succede che che io che io faccio queste capito ma che è viagra? si carino succede che io faccio queste ok fai vitamine perchè sembra cucinata si più o meno se faccio vitamine è un po' più potenti però you're good and right porca troia ahhh breaking bad io sono in pericolo tu non sei nessuno ahhh questo coso qua si i'm the one un hox breaking bad ho capito certo era brutta come cosa ma comunque questa qui non è una parannazza ma è una busta si in effetti però rendeva l'idea dai just do it poi da nike do it perca troia le mie sono tutte complicate cioè sono famose ma sono complicate da dire che appunto è complicata puttana eva allora parla della storia di una medica di come la sua vita è cambiata capa volta no di un medico donna quindi di una medica anche se non si può dire però scialla che è innamorata di uno bellissimo no se tratta di medicina però in realtà è una storia d'amore bellissima che tutte le femmine hanno detto oh mio dio quanto è bello lui stava pure a Roma che è sanato bravo vedi è facile da capire eh sì perchè la fine è soltanto quella è una storia d'amore dei medici però è più figa la maxistoria secondo me di come la mia vita è cambiata sì è molto più figa oh 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 allora questa serie tv ok è una serie tv che tu probabilmente ti sarei visto praticamente si vedono molti tifosi di squadre tipo Lazio tipo Milan tipo Inter ultimamente capito questa se la vedono molto la fanno è una serie tv italiana diciamo che il protagonista è un prete con l'accento inglese praticamente ma che cazzo stai a dire si tu devi capire che non devi fare queste cose se poi vuoi essere amato e io vado in bicicletta per il paese risolvo casi di omicidio no vabbè sei malato cioè il nesso de era perchè non siamo in Champions il nesso del si perchè la vado il mercoledì Don Matteo si che cosa triste regalo Don Matteo io non l'ho mai vista manco io però è famosa a quanto pare allora allora ecco allora in pratica in poche parole lui si mette con questa questa poi si mette con un'altra poi un'altra però se lascia muore poi le sushi beautiful vabbè è facile cioè dopo lui si mette con un'altra e poi lui si mette con l'altra è fatta è beautiful è beautiful questo è solo beautiful l'ultimo mio che è questo qua ed è è un'altra che lo leggo perchè lo sapevo non lo ricordavo che l'avevo scritto comunque è questo qua qua zampe da fatto esatto posso allegare anche un filmato The Walking Zamp si l'incredibile l'unica serie tv vera in realtà lo so non lo sai minchia tre cuoricini minchia 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 the walking zamp comunque The Walking Dead giusto era The Walking Dead che mese che schifo bella l'hanno rovinata manca l'ultima tua si manca l'ultima mia che so che cos'è quindi è inutile la apro tanto per e io adesso farò una cosa che in realtà non è mimaro o cazzi vari che tu non devi guardare come ti puoi anche girare come va mio caro microfono tutto a posto vizio mi sono mancato quando faremo scrubs cioè praticamente te hai fatto tanto serie tv di medicina no hai fatto due di medicina che non è grissamato vabbè probabilmente bloccare sei un grande grazie grazie comunque siamo stati molto in difficoltà nel minimare le serie tv sembra semplice ma in realtà è più difficile fare le serie tv che i film non so perché c'è sta troppa roba da dire esatto ma più che altro qualsiasi cosa dici è la bici cioè la bici di Don Matteo come sempre comunque ragazzi questo episodio è finito speriamo vi sia piaciuto dici quanto siamo stati bravi se siamo stati bravi di imitare qua sotto e chi è stato più bravo lasciamo 5.000 like per una prossima challenge noi ci becchiamo al prossimo video come sempre benissimo è tutto ciao